Sono da sempre presidi fondamentali per il mantenimento dello Stato sociale, per colmare quel vuoto che lo Stato non riesce a riempire con i suoi servizi. Le Caritas, soprattutto in questo tempo di crisi economica e di valori, rivestono un ruolo centrale nell'assistenza ai poveri. Ruolo esaltato da Papa Francesco, che ha definito le Caritas la carezza della Chiesa al suo popolo, perché una Chiesa senza carità non esiste. A novembre 2015 ci sarà un importante incontro tra tutte le Caritas d'Italia a Firenze, incontro al quale si sta preparando anche la diocesi di Pescara Penne. La Chiesa che è esperta di umanità va alla ricerca dell'uomo, così come Dio va alla ricerca sempre dell'uomo. La parola di Dio ad Adamo è Adamo dove sei e giustamente nelle situazioni difficili, nelle situazioni precarie, Dio cerca l'uomo attraverso la Chiesa, attraverso la comunità, la comunità dei credenti che si fanno portatori di questo incontro tra Dio e l'umanità. La Caritas riesce ad avere una fotografia esatta del disagio che si sta estendendo, spiega Don Marco Pagnello, direttore della Caritas Diocesana di Pescara. Non solo tra quelli che qualche anno fa erano definiti e marginati, ma anche tra le famiglie. Sicuramente sono aumentati nel numero e si sono diversificati, così come rispetto al nostro semplice e normale pensare. Ai famosi senza fissa di mora, ai senza tetto, ai clociard, oggi si uniscono tante famiglie italiane che si possono ritrovare o che si sono già ritrovate da un momento all'altro in una situazione di fatica a causa della perdita di lavoro oppure perché un ammortizzatore sociale non è stato più rinnovato e quindi oggi sempre più sono le persone che si rivolgono a noi e che prima di questo incontro erano tra quelli che forse ci aiutavano ad aiutare i più poveri. Ogni giorno, 365 giorni all'anno, è il momento in cui dobbiamo essere attenti a che cosa l'uomo vive e a che cosa l'uomo sperimenta nelle sue necessità e a che cosa l'uomo può vivere e sperimentare nel dare qualcosa a chi ne ha bisogno.